Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Vivio per la variante di Valico. Sulla Fipili per lavori in direzione Livorno ci sono code tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Prestare attenzione per personale su strada segnalato allo svincolo di San Mignato in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori in rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e Bargino e tra Monteriggioni e Badesse. Sulla regionale due cassi a restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 270. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!